Alla fine tutto si è risolto positivamente e possiamo scherzarci su Paolo Di Bala colpito duro da Montari. Sabato scorso lo stadio Adriatico Cornacchia sarà regolarmente in campo al Camp Nou contro il Barcellona. Sentite cosa ci aveva detto Sassà Bruno nelle nostre interviste del giorno prima realizzate nell'hotel Dragonara. Il tono chiaramente è scherzoso. Le partitue arriva Paolo Di Bala, cosa fa Sassà Bruno? È un calcio, glielo do. Non è stato Sassà Bruno ma Montari a dare il calcio a Paolo Di Bala. Noi abbiamo chiesto spiegazioni, chiaramente sempre in tono scherzoso, nel dopo partita. Ci eravamo sentiti, avevo chiesto come si ferma Di Bala, vi ho detto con un calcetto, niente di programmato con Montari, no? Ma no, ma no, ma no. Scherziate? Assolutamente no. Mi dispiace che forse dovrà saltare la partita di Barcellona. Sentivo che ha preso una botta però ci sta in queste partite, ci sta il gioco del calcio, è fatto anche di contatti e mi dispiace per loro. Paolo Di Bala alla fine ci sarà e dunque pericolo rientrato, ma nella parte finale dell'intervista di Sassà Bruno anche una risposta a quelle che sono state le dure dichiarazioni di Giorgio Chiellini sull'atteggiamento dei Biancazzurri. Oltre ogni confine, arricchire e svuotare un'esistenza intera.